Ah, Tony, tappos, Tony? Tappos, va. Tony, ma cosa ti dici? Tappos a me, tappos a te. Tappos a te. Tappos a noi. Tappos a noi. Tony, ma tu sei sincero. A me è molto bene o non è molto bene? Ah, a te. Dici? Non c'è le comande nostre. Ma te l'hai già dice, affettami, ne capite manco. Ma ci facciamo, te l'hai già già. Eh, lo sai, ma... Lo puoi disegnare sempre. Io, te l'hai già, ti tengo il tuo cuore. Ah, mamma mia. Il mio cuore sei tu. Ua, sei un buon amico. È brutto, sei un buon amico. Tony, c'è una cosa, ma un metodo diverso, c'è la prima. Con te... Tu sei un amico caro. Ah. Un amico sincero. Tony, siccome che tu... Lo sai quando mi fai morire? Quando fai un verso e lo sorpendo. Un verso e lo sorpendo e verso il passaggio. E devi sapere, Emanuele, che mi ha fatto un sorpendo, un sorpendo se ne hai scappato. Emanuele, bacia Emanuele. E lui, quando mi faccia Emanuele? Ma Emanuele... Ti faccio tanto... Andate da Emanuele. Ti tratta bene. Ti tratta bene. Ti tratta bene. Ti tratta bene. E voi fai un sorpendo. Un sorpendo. قي Un sorpendo. Ma va, faccio te blobas. Bello. O persì... O persì l'elefant? O persì O persì. toni ma che la battuta che ti diciamo sempre come fa? toni ma credo che il tuo rumore non dà notare? e lo diciamo lo diciamo fa questo rumore e se mi hai mi ricordi? toni non si sta ambalando pure la situazione come dicevi ragazzi i 1 e i 19 i 1 e i 12 e i 8 mi ditevi perchè sono tutti scemi come guardi ci stai mettendo a fare un uccidio e toni? ciao ci andiamo a fare un bel giro ci andiamo a fare un bel giro ci andiamo a fare un bel giro e cosa ne fai? e cosa ne fai? e cosa ne fai? ci si fai il giro e tu non ne fai il giro? ci schifo la cosa ma